Stefano Saia si interrompe a Palmi la striscia di vittoria del Bolle Soverato, una partita lottata, intensa, bella, spettacolare, alla fine vince il Palmi al Tidrack 3-2, ma arriva comunque un punto utile che va a classifica per il Soverato. Sì, assolutamente, noi abbiamo fatto una partita intensa contro un Palmi che è rimasto in partita per tutti i cinque set, devo dire che noi siamo stati molto bravi, mura difesa, abbiamo lasciato probabilmente qualche episodio di troppo, la palla cadere per terra, ma devo dire che l'intensità è stata alta da tutte le parti e dalla nostra soprattutto. Abbiamo finito tutti e quattro i primi set con un attacco più alto rispetto a Palmi, probabilmente siamo mancati nei momenti importanti con la lucidità di scegliere il corpo migliore, ma ripeto, le ragazze hanno fatto una gran partita e sono contenti di quello che è successo qui in campo. Poi ci sono situazioni che sono poco prevedibili, un filotto in battuta, una palla attaccata dai sei metri che prende il nastro, quello ci sta. Probabilmente dobbiamo ancora di più lavorare per smussare le cose che possiamo ancora migliorare e continueremo a farlo partita dopo partita, giorno dopo giorno in allenamento. Probabilmente un po' meno reattiva, un po' meno lucida solo nel tie, perché la squadra oggi, perché negli altri set, oltre a quelli vinti, quei due persi sono stati persi ai vantaggi e la squadra è stata sempre in partita. Sì, più che meno reattive parlano i numeri. In attacco abbiamo attaccato peggio di loro nel tie break, solo quella, la differenza è stata quella. Nel tie break probabilmente, per una serie di motivi, abbiamo aumentato, anzi diminuito le nostre efficienze in attacco e loro ne hanno approfittato, spostando l'inerzia dalla parte loro. Ripeto, in un tie break probabilmente dobbiamo cercare di essere più cinici, ma non voglio rimproverare niente alle ragazze, perché è una partita che aveva tantissime sfaccettature e tantissime implicazioni. Sono contento per l'intensità, probabilmente possiamo fare ancora meglio come ricerca dei colpi d'attacco, soprattutto nei momenti in cui la palla non è alzata perfetta. Coach Gian Grossi, una bella prestazione quella del Palmi, vince il derby al tie break 3-2, rimontando da 2-1, quindi una bella prova di carattere anche direi di questa squadra, che continua quindi a sperare in un posto dei play-off. Sì, avevamo tanta voglia di vincere la partita, uno per continuare a sognare i play-off, perché chiaramente erano alla portata fino a domenica scorsa, quindi era un peccato sciupare così la nostra occasione, e due perché volevamo un po' riscattare anche la bruttissima prestazione dell'andata, dove Soverato c'era stata superiore in tutti i fondamentali, quindi avevamo tanto desiderio di giocare una bella partita davanti al nostro pubblico. Un po' di rimpianto per il primo set che dovevamo chiudere e probabilmente poteva significare una partita più agevole, però davanti avevamo una squadra che secondo me in questo momento è la più in forma, è la più compatta del campionato, quindi tanto merito a loro per aver fatto benissimo tante cose, per averci messo sempre in difficoltà e merito alle mie ragazze di averci creduto fino in fondo, di aver lottato sotto ogni pallone. Una squadra che è stata molto lucida, ha giocato un ottimo tiebreak condotto già dal cambio di campo 8-7, poi praticamente non ha più mollato nulla, nel tiebreak è stata, non dico perfetta, ma quasi. Assolutamente abbiamo giocato un tiebreak di altissimo livello, di altissima intensità, ma soprattutto mentale prima che fisica, a quel punto le energie fisiche erano poche per tutti. Un applauso va sicuramente al capitano che in quel momento ha preso per mano la squadra sul sei pari quando c'è stata quella piccola interruzione, le ho chiesto di compattare il gruppo e di essere lei il leader in quel momento e lei lo ha fatto benissimo, ma bravissime tutte, la palleggiatrice che ha fatto nel tiebreak il suo miglior set, probabilmente, il libero, tutte brave, brave veramente. E abbiamo battuto, secondo me, ripeto, una squadra veramente forte, ben allenata, ben messa in campo, con tante individualità interessanti e è una grande soddisfazione. Poi faremo i conti per vedere se alla fine della prossima giornata saremo nei play-off oppure no, però comunque questa rimane per noi una prestazione importante per chiudere la stagione davanti al nostro pubblico. Proprio questa era l'ultima domanda, adesso c'è l'ultimo sforzo da fare domenica prossima su un campo difficile come Legnano per andare a conquistare l'intera posto in palio per cercare l'accesso in questi play-off. Sì, a conti fatti in questo momento siamo fuori per differenza set. Legnano è sicuramente una squadra molto forte che all'andata abbiamo battuto qui in casa ma sarà un'altra partita. Loro hanno comunque consolidato il terzo posto, quindi magari potrebbero avere qualche motivazione in meno di noi, ma ci credo poco. E poi dobbiamo guardare il risultato di Brescia con Mondovì. Mondovì è aggrappato alle ultime speranze per la salvezza, oggi ha perso male in casa contro Caserta, quindi in questo momento sarebbe retrocessa direttamente. Ha bisogno dei punti di domenica prossima e noi speriamo che si vada a giocare la partita della vita e noi nello stesso momento proviamo a giocarci le nostre carte. Poi una volta che dovessimo andare ai play-off inizia un nuovo campionato e lì chi ne avrà di più e chi avrà la testa più lucida probabilmente si porterà a casa il sogno della 1.